In calo nell'ultima settimana il numero dei contagiati per covid-19, anche se si è registrato un aumento dei ricoveri in ospedale di pazienti affetti dal virus. Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno si registra ancora un decremento di nuovi casi, con un'incidenza pari a 14.205 e una diminuzione in percentuale dell'8,76%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, 364 ogni 100.000 abitanti e Palermo, 329 ogni 100.000. Le fasce d'età più a rischio sono quelle tra gli 11 e i 13 anni e tra i 45 di 59 anni. Per quanto riguarda i dati sulla provincia di Caltanissetta, sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore 113 positivi, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio si tratta di 49 pazienti di Gela, 28 di Caltanissetta, 6 di San Cataldo, 5 di Mussomeli, 5 di Niscemi, 4 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Campofranco, 3 di Milena, 3 di Sommatino, 2 di Butera, 2 di Mazzarino, 2 di Riesi e 1 di Vallelunga. In degenza ordinaria risultano ricoverati un paziente di Caltanissetta, un paziente di Santa Caterina, uno di Niscemi, uno di Gela e uno proveniente da fuori provincia. Sono invece stati dimessi dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e uno proveniente da fuori provincia. Risultano guariti dal Covid 33 pazienti di Gela, 31 di Caltanissetta, 9 di Niscemi, 7 di San Cataldo, 3 di Campofranco, 3 di Mazzarino, 3 di Mussomeli, 3 di Sommatino, 3 di Vallelunga-Prattameno, 2 di Butera, 2 di Riesi, 2 di Santa Caterina, 1 di Delia e 1 di Marianopoli. I dati sulla campagna vaccinale, che fanno riferimento al periodo compreso tra l'1 e il 7 giugno, dicono che nella fascia di tra tra i 5 e gli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,19% del target regionale. Hanno completato il ciclo primario 73.632 bambini, per una percentuale del 23,38%. I vaccinati, che hanno più di 12 anni con almeno una dose, sono il 90,11% del target regionale, mentre ha completato il ciclo primario l'88,83% degli aventi diritto. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.731.843, pari a 73,79% della popolazione. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 12 aprile è stata estesa la somministrazione della quarta dose agli over 80, ospiti delle strutture per anziani e alle persone tra 60 e 80 anni particolarmente fragili. Hanno diritto alla quarta dose coloro che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza essere stati nel frattempo colpiti dal Covid-19. Dal 1 marzo sono state effettuate 26.263 somministrazioni di quarta dose, delle quali 18.897 a persone ultra 80 anni.